sì 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 peccato per il risultato perché ci credevamo avevamo voglia di fare bene la semifinale era un passo purtroppo insomma una partita l'abbiamo sbagliata e insomma ci ha penalizzato però come hai detto te insomma un gruppo un gruppo fantastico è stata un'estate da quel punto di vista lì stupenda abbiamo lavorato bene abbiamo lavorato intensamente penso che anche durante le partite si sia visto l'unione del gruppo ti dico peccato perché insomma eravamo lì un passo alla semifinale è andata male ho salutato i ragazzi prima della partenza per il ritiro li ho visti motivati e carichi e adesso insomma aspettiamo che arrivi che si formi tutto il gruppo per via del dei vari impegni con le nazionali e poi si iniziare a lavorare un'impressione molto positiva insomma penso che se sono lì in nazionale vuol dire che sono giocatori di livello e lo hanno dimostrato quindi adesso insomma gli auguro ancora buon lavoro per chi sarà ancora in nazionale e niente li aspettiamo qua a monza